Eccomi qui, come sempre, per entrare nelle vostre case, nelle vostre vite e darvi un piccolo saluto, una parola o un pensiero, pregare con voi e darvi la buonanotte. E oggi pensavo tanto ai bambini, perché in parrocchia il sabato c'è il catechismo, poi oggi abbiamo fatto questa festa del perdono, dove abbiamo creato due porte, una bella 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 con i palloncini tutta colorata e l'altra brutta 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 tutta con i palloncini neri, per dire ai bambini che l'amore fa entrare nella porta bella, nella porta del cuore di Dio e ci fa stare vicino ai fratelli. Ma l'odio, la cattiveria ci allontana dai fratelli e ci allontana dal cuore di Dio e ci porta sempre su vie non belle, non sante. E allora ho trovato, così spulciando e leggendo, delle belle parole di Giorgio Gaper, perché pensate un po' a voi come dei bambini. Dio si commuove perché ci pensa come i suoi bambini. E allora, ecco, ve le lecco. Un bambino risponde grazie perché ha sentito che è il tuo modo di replicare ad una gentilezza, non perché gli insegni a dirgli. Un bambino si muove sicuro nello spazio quando è consapevole che tu non lo trattieni, ma che sei lì nel caso lui abbia bisogno di te. Un bambino, quando si fa male, piange molto di più se percepisce la tua paura. Un bambino è un essere pensante pieno di dignità, di orgoglio, di desiderio, di autostima. Non sostituirti a lui. Ricorda che la sua implicita richiesta è aiutami a fare da solo. Quando un bambino cade correndo e tu gli avevi appena detto di muoversi piano su quel terreno scivoloso, ha comunque bisogno di essere abbracciato e rassicurato. Punirlo è un gesto crudele. Purtroppo sono molte le madri che infieriscono in quei momenti. Avrai molto più tardi di spiegargli l'importanza del darti ascolto, soprattutto in situazioni che possono diventare pericolose. Un bambino non apre un libro perché riceve un'imposizione, ma perché è spinto dalla curiosità di capire cosa ci sia di tanto meraviglioso. Un bambino crede nelle favole se ci credi anche tu. Un bambino ha fiducia nell'amore quando cresce in un esempio di amore. Non sono nervosa, sei tu che mi rendi così. È una frase che da non dire mai. Un bambino sempre attivo e nella maggior parte dei casi un bambino pieno di energia che deve trovare uno sfogo. Non è un paziente da curare con dei farmaci. Provate a portarlo il più possibile nella natura. Un bambino troppo pulito non è un bambino felice. La terra, il fango, la sabbia, le pozzanghe, gli animali, la neve sono tutti elementi con cui lui vuole e deve entrare in contatto. Un bambino pone sempre tante domande. Ricorda che le tue parole sono importanti. Meglio un questo non lo so se davvero non sai rispondere. Inutile indossare un sorriso sul volto per celare la malinconia. Il bambino percepisce il dolore, lo legge. Un bambino merita sempre la verità. Quando la vita è complicata, il bambino lo percepisce. Il bambino è il più potente miracolo che possiamo ricevere in dono. Onoriamolo con cura. Ecco, di tutto questo c'è una frase che voglio lasciarvi. Un bambino quando cade e tu gli avevi detto di andare piano, ha bisogno di essere abbracciato. Anche noi sappiamo che non dobbiamo sbagliare. Anche noi sappiamo che non dobbiamo peccare. Non abbiamo bisogno di giudici. Non abbiamo bisogno di dite puntate. Non abbiamo bisogno di rimproveri. Certo, di correzioni amorevoli sì. Ma in quel momento forse abbiamo bisogno di dire Dai, la prossima volta andrà meglio. E ricevere un abbraccio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi mando un bacio. Vi voglio bene. Se Dio vuole ci vediamo domani mattina. E alle 8.40 domani. Ricordatevi che c'è Fatti per il Cielo una puntata bellissima su Padre Pio TV. E chi non può la mattina c'è il pomeriggio alle 15.25.